Dopo il passaggio dell'ospedale marino, l'azienda universitaria di Sassari non è stato ancora firmato il protocollo d'intesa, interrogazione del consigliere regionale Marco Tedde che si appella al presidente sull'Inas. La circonvalazione dovrebbe essere completata entro aprile del prossimo anno e quanto emerso dall'ultima riunione della Commissione Lavori Pubblici. L'opera paga alcuni ritardi e il rincaro dei prezzi. Il sindaco di Sassari, Nanni Campus, si è rimesso da presidente della rete metropolitana di Sassari in aperta polemica per i ritardi dell'attivazione della città metropolitana. Un saluto a tutti voi e bentrovati a una nuova edizione del nostro telegiornale. In primo piano oggi la sanità che fine ha fatto il protocollo d'intesa che dovrebbe disciplinare il passaggio del presidio ospedaliero marino regina Margherita di Alghero all'azienda ospedaliera universitaria. Se lo chiede il consigliere regionale di Forza Italia Marco Tedde che ha depositato un'interrogazione. Marco Tedde ricorda di essere stato da sempre contrario al trasferimento dell'ospedale marino all'azienda ospedaliere universitaria di Sassari avvenuto a gennaio del 2022 ma il consigliere regionale di Forza Italia ricorda anche che secondo la legge regionale il trasferimento avrebbe dovuto migliorare le attività integrate nel campo dell'ortopedia, della traumatologia e della riabilitazione funzionale alle reti formative per le scuole di specializzazione favorendo inoltre l'attivazione di un polo di sviluppo di rilievo regionale per le tecnologie chirurgiche ortopediche innovative nel campo della robotica. Il presidente della regione e il rettore dell'università di Sassari avrebbero dovuto sottoscrivere un apposito protocollo d'intesa alle necessarie convenzioni attuative per disciplinare i termini e le modalità del passaggio anche ai fini del mantenimento dei requisiti e degli standard necessari al mantenimento del DEA di primo livello in campo al presidio ospedaliero civile di Alghero. L'ex sindaco sottolinea che il presidio ospedaliero marino è sempre stata una struttura all'avanguardia nella chirurgia protesica su anca, spalla e ginocchio nella quale sono stati eseguiti con grande professionalità migliaia di interventi di traumatologia, chirurgia ortopedica di elezione e dei sargeri a ciclo quotidiano con almeno due sale operatori in contemporanea dedicati all'ortopedia. Non ci pare che in questo anno ci siano stati miglioramenti, attaccatette, anzi sono ampliati a dismisura le liste d'attesa e sono evidenti forti criticità che devono essere affrontate e risolte. Peraltro non si ha notizia della firma del protocollo d'intesa e delle necessarie convenzioni attuative per disciplinare i termini, le modalità del passaggio e all'orizzonte non si intravere un minimo indizio di avvio di attività di robotica chirurgica e di attività di alto profilo formativo che erano la base del trasferimento. Per questi motivi, fa sapere Tedde, ho interrogato il presidente della regione affinché affronti la problematica in prima persona, verificando qual è lo stato del procedimento di trasferimento a Dugimonco, le criticità del presidio e le responsabilità del ritardo. Intanto su un altro problema sollevato dal consigliere regionale forzista, ovvero la sospensione dell'attività chirurgica al civile per carenza di medici, è intervenuto anche il vicepresidente della commissione regionale sanità Daniele Cocco. Uno stato di emergenza più volte segnalata dagli stessi operatori sanitari che da anni sollecitano le missioni in ruolo di nuovo personale ma totalmente ignorata dai vertici dell'area regionale attacca l'esponente di centro-sinistra, segnalando come ci siano difficoltà anche nei reparti di oculistica di Alghero e Ozzieri. A proposito di ospedale marino, nei giorni scorsi c'è stato un sovralluogo della commissione ambiente preseduta dal consigliere Cristian Mulas nel tratto di costa antistante proprio all'ospedale Regina Margherita. Alla presenza dell'assessore all'ambiente Andrea Monti e dei consiglieri comunali si è potuta constatare la condizione di degrado in cui versa quel tratto di litorale caratterizzato da bassi fondali e acque cristalline. Nel sito risulta presente una cospicua distesa di detriti che a ogni mareggiata vengono sempre più messi in evidenza e trasportati nelle limitrofe spiagge urbane recando disagi per la libera fruizione del litorale. A ciò si aggiunge che le opere marittime esistenti, un vecchio molo in cemento, risultano sempre più danneggiate e non più percorribili a causa degli imponenti marosi che ultimamente si sono abbattuti sulla costa algherese. Si tratterebbe di detriti e rocce da scavo presumibilmente riconducibili ai lavori di demolizione e ricostruzione che nella prima metà degli anni 70 interessarono l'ospedale marino di Alghero e che successivamente furono riversati negli spazi demaniani antistanti il nosocomio. Dalla commissione tenutasi nei giorni scorsi è emerso che già nel mese di aprile 2021 l'assessore Monti si inviò una nota all'allora direttore generale della struttura ospedaliera all'epoca ancora di competenza dell'ASL sottolineando il degrado e la pericolosità dei luoghi. Spazi peraltro che se resi sicuri e fruibili potrebbero essere facilmente utilizzati per attività helioterapiche e riabilitative a tutto vantaggio dei pazienti. Nel frattempo l'ospedale marino è passato di competenza all'azienda ospedalera universitaria. La proposta in questione è stata di recente illustrata dal direttore generale della USA Sarese dal presidente della commissione Cristian Mulas trovando da parte di vertici sanitari interessamento per la valorizzazione e riqualificazione dell'area. Cambiamo argomento, parliamo di circonvallazione perché su iniziativa della presidente Monica Pulina, capogruppo di Fratelli d'Italia, nei giorni scorsi si è riunita la terza commissione consigliare con le lavori pubblici per fare il punto sullo stato di attuazione dei lavori. Un'opera, quella della circolazione attesa da anni, il cui completamento contribuirà a migliorare la qualità del traffico urbano e ridurre i disagi soprattutto durante la stagione estiva. È stato il dirigente dei lavori pubblici, l'ingegner Balzano, ad illustrare lo stato attuale dei lavori della circonvallazione e indicare le relative tempistiche durante la seduta della terza commissione convocata a martedì scorso dalla presidente Monica Pulina proprio per fare il punto sullo stato dell'attesa opera pubblica. Opera di competenza regionale realizzata in delega dal comune con una copertura finanziaria complessiva di 10 milioni e mezzo di euro. Prevede la realizzazione di una strada urbana di quartiere a quattro corsie suddivise in quattro tratte intervallate da rotatorie per consentire l'innesto con le viabilità urbane di quartiere dello sviluppo complessivo di circa due chilometri quale parte dell'itinerario di circonvallazione della città di Alghero che collegherà poi il nato nord della stessa città, Sassari e aeroporto di Fertilia al lato sud in direzione Villanova-Monteleone-Bosa. La seconda parte della circonvallazione è invece ricompresa nei progetti a completamento dell'intervento principale che sono relativi alla direttrice Sassari-Alguero. Oltre alla funzione di circonvallazione del centro catalano la nuova strada si sa che concorre al completamento funzionale di quella direttrice. I lavori sono stati consegnati in via parziale ad ottobre del 2020 mentre la consegna in via definitiva all'associazione temporanea di imprese è datata 5 ottobre 2022 a seguito del completamento delle attività di verifica in merito alla presenza di ordini bellici estesa nell'area dell'ex blocchettificio. Nel frattempo sono stati realizzati due distinti sopraluoghi da parte di Arpas Sardegna e del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale. Entrambi i momenti di verifica hanno avuto esito positivo. Sulla base della contabilità tenuta dal direttore dei lavori a tutto il 18 novembre 2022 l'ATI ha maturato 4 stati di avanzamento per un totale complessivo di quasi 1 milione 800 mila euro mentre la data di ultimazione dei lavori è attualmente prevista per il 30 aprile 2024 salvo naturalmente imprevisti. Ci si augura, chiosa la Presidente Monica Pulina, che le tempistiche vengano rispettate e i lavori concluse entro aprile 2024 consentendo così il completamento di un'opera strategica per Alghero indispensabile per migliorare la qualità della vita dei cittadini e dei nostri ospiti. Un importante passo in avanti per una città sempre più a misura d'uomo. Al termine dei lavori la Commissione ha deliberato di aggiornarsi per il prossimo venerdì 24 febbraio alle ore 12 per un sopraluogo nel cantiere per prendere atto personalmente dello stato dei lavori. Il sindaco di Sassari, Nani Campus, ha comunicato le sue dimissioni da Presidente della Rete Metropolitana al Governatore Cristian Solinas e all'assessore degli enti locali Aldo Salaris. La notizia ieri è stata condivisa con gli altri sindaci della Rete. Nel documento inviato in regione il primo cittadino denuncia i ritardi nell'attivazione della città metropolitana di Sassari che causano una pesantissima perdita di fondi per tutto il territorio e chiede l'intervento del Governo regionale nei confronti del Governo nazionale al fine di far riconoscere i fini dell'assegnazione delle risorse della città metropolitana di Sassari tra quelle già esistenti. In tutti questi anni il mancato riconoscimento della città metropolitana di Sassari ha determinato un'enorme sperequazione nelle risorse assegnate invece alla città metropolitana di Cagliari attraverso fondi del PON Metro e del PNRR destinati alle città metropolitane rispetto a quelli assegnati al territorio della Rete Metropolitana del Nord Sardegna. Si legge nella lettera con la quale il sindaco sassarese Nani Campus comunica le sue dimissioni da Presidente della Rete Metropolitana. Ancora nel programma nazionale Metro plus città medie sud dell'agenda europea 2021-2027 la città metropolitana di Sassari non viene ricompresa tra le altre città metropolitane e Sassari è stata inserita nell'elenco delle città medie assieme a Porto Torres come uniche rappresentanti del territorio del nord ovest della Sardegna perpetuando una gravissima disparità fra le risorse assegnate alla città metropolitana di Cagliari e quelle assegnate a questo territorio con differenze quantificabili ancora una volta in centinaia di milioni denuncia Campus. Il documento continua sottolineando il grave danno economico provocato al nord Sardegna da questi ritardi considerato inoltre il divario strutturale ed economico che il perdurare negli anni attraverso lo svolgersi delle agende europee 2014-2020 prima e delle PNRR poi ha determinato svantaggio di tutto il territorio del nord ovest della Sardegna e che ora il protrarsi di una tale disparità anche nell'agenda 2021-2027 rende davvero insostenibile il continuare a subire una tale discriminazione. E non è mai stato applicato neppure quanto previsto dalla legge istitutiva della città metropolitana di Cagliari nel 2016 e poi ripreso dalla legge regionale 3 del 2022. Nelle more dell'entrata in funzione della città metropolitana di Sassari la regione provvede nell'ambito delle risorse europee, nazionali e regionali iscritte in bilancio a garantire alla rete metropolitana del nord ovest della Sardegna le medesime risorse destinate alla città metropolitana di Cagliari. Il sindaco Nani Campus nel motivare la sua scelta agli altri primi cittadini della rete spiega essendo ormai diventato assolutamente insostenibile il divario che si sta determinando fra il nord e il sud della nostra regione sento di dover manifestare il dissenso e la protesta di tutto un territorio e ritengo di doverlo esprimere attraverso le mie dimissioni da presidente della rete. L'assemblea ha preso atto sia delle dimissioni sia del fatto che le funzioni saranno svolte dal vicepresidente vicario il sindaco di Alghero Mario Conoci questo per evitare di non poter spendere le poche risorse rimaste. Il presidente del consiglio regionale Michele Paesi in questi giorni a Bruxelles come relatore per il Comitato europeo delle regioni del parere sull'interoperabilità dei servizi pubblici digitali che punta a garantire il coordinamento trasfrontaliero e il sostegno all'innovazione del settore pubblico in Europa. Ha preso infatti avvio l'illustrazione del parere sull'interoperabilità dei sistemi digitali informatici che come sottolineato dallo stesso Paes assume particolare importanza nei confronti dei territori delle regioni periferiche soprattutto quelli insulari che potranno meglio superire all'isolamento geografico attraverso la cosiddetta continuità digitale quindi i ponti le infrastrutture informatiche e digitali. Il percorso iniziato appunto con la relazione del presidente Paes dovrebbe concludersi nel mese di maggio con l'approvazione da parte della sessione plenaria del Comitato delle regioni. Sentiamo proprio le sue parole. Inizia oggi il percorso di presentazione del parere sulla interoperabilità dei sistemi digitali, la nuova frontiera di coesione dell'Unione Europea. Particolare importanza questo argomento assume nei confronti delle regioni periferiche e soprattutto nelle regioni insulari che possono sopperire alla condizione di isolamento geografico appunto con la cosiddetta continuità digitale. Pensate ai settori del lavoro, dell'istruzione, della sanità o semplicemente alla partecipazione a un concorso pubblico rispetto ai quali un cittadino del più piccolo paese della Sardegna deve avere le stesse opportunità di un cittadino di una grande metropoli europea. Questa è la interoperabilità dei sistemi digitali. Ci fermiamo ora per una breve pausa pubblicitaria, tra poco con la seconda parte. Alghero, Elecomuseo e Gea di Fertilia, protagonisti dello speciale realizzato da Rai Scuola per il giorno del ricordo che come ogni anno viene celebrato il 10 febbraio con gli studenti e docenti del liceo classico Manno, la regista Alessandra Peralta e l'autore Pietro De Gennaro hanno ricostruito i fatti più importanti di quel periodo storico. Tra il 1947 e il 1960 a Fertilia vennero accolti oltre 600 profughi provenienti dall'Istria e dalla Dalmazia. Alcuni esuli, allora ragazzi, hanno raccontato le loro storie di dolore per aver abbandonato la terra dove vivevano. Manche storie di accoglienza, integrazione di lavoro durissimo per costruirsi una nuova vita. Nello speciale realizzato da Rai Scuola, i racconti di Marisa Brugna, Mario Grego e Aldo Salvagno, ma anche le impressioni dei giovani studenti del liceo algherese. Lo speciale Rai, realizzato a Fertilia per il giorno del ricordo, è un importante riconoscimento per una nuova ma importante realtà culturale del territorio. Il primo museo nazionale dedicato alla storia dell'esodo, una storia taciuta per troppo tempo su cui era importantissimo tenere accesa la luce della memoria, commenta l'assessore alla cultura Alessandro Cocco. Le storie dei tanti esuli che hanno animato Fertilia ci raccontano la forza di volontà, amore per l'Italia e voglia di andare avanti. Un insegnamento importante per tutti. Ancora più significativa la partecipazione dei ragazzi del liceo Mannu. Un bel momento di cultura, aggiunge l'assessore e promozione della nostra città. Rimaniamo in tema perché parliamo di un incontro culturale che si terrà questo pomeriggio all'Università delle Tre Età di Alghero. A partire dalle 16.30 nella sede di Via Sassa di 179 si parlerà proprio del dramma degli esuli. Saranno presenti la professoressa Daniela Avelli, presidente del Comitato Provinciale ANVGD, docente di lettere in rappresentanza del Ministero della Pubblica Istruzione, l'insegnante di Marisa Brugna, scrittrice, Mauro Manca, direttore del Museo Egea e l'assessore al turismo Alessandro Cocco per presentare dalle terre dell'Adriatico a Fertilia un viaggio senza ritorno. Le terre di confine. Data l'importanza del tema trattato. Si invitano a partecipare i docenti e gli studenti degli istituti superiori della città. E c'è tempo fino al 14 marzo 2023 per partecipare ai bandi di concorso per titoli ed esame pubblicati dalla Fondazione Alghero per la formazione di tre distinte graduatorie per l'assunzione di una unità di personale a tempo pieno indeterminato da scrivere alla seconda fascia, secondo livello ex livello C1 del contratto collettivo nazionale FederCulture per il profilo professionale di impiegato con funzioni amministrative, una a tempo parziale indeterminato con funzioni amministrative contabili ragioniere, una da scrivere alla terza fascia, secondo livello ex livello D1 sempre del contratto FederCulture a tempo parziale indeterminato per il profilo professionale di responsabile area struttura e logistica. Le candidature dovranno essere presentate e corredate dalla documentazione richiesta entro e non oltre il 14 marzo prossimo esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo selezioni chiocciola pec.edu.gov.it. I bandi di concorso insieme a tutti i documenti necessari sono pubblicati sul sito della Fondazione Alghero, sezioni avvisi e bandi, sull'amministrazione trasparente, sezioni bandi di concorso e sul sito del Comune di Alghero. Dopo due anni invece condizionati dalla pandemia ritorna il Carnevale delle Borgate. Il Presidente del Comitato di Guardia Grande Corea è Angelo Sanna insieme al Presidente dell'Associazione Guardia Grande Donatella Manunta a comunicare che domenica, questa domenica 19 febbraio, si svolgerà la ventitresima edizione appunto del Carnevale delle Borgate. Si riparte con lo stesso entusiasmo delle precedenti edizioni, scrive Sanna, parlando della manifestazione che si svolge con il patrocinio del Comune di Alghero e la Fondazione Alghero. Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti alle 14.30 presso il Bivio di Portoferro alle 15, la partenza della sfilata verso la Borgata di Guardia Grande dove l'arrivo è previsto intorno alle 17.00. Dopo l'esibizione del Tamburinos di Gavoi, Urzu e Sonaggios di Ortueri e Sostintinnatos di Siniscola dalle 18.30, musica e balli in piazza per grandi e piccini con il DJ Raimondino. E per oggi è davvero tutto, io come sempre vi lascio al meteo, grazie per essere stati con noi e arrivederci.